Grazie per l'invito e per l'introduzione, buongiorno a tutte e a tutti. Per iniziare vi faccio vedere delle immagini. Grazie per la visione. 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 Ecco, questi sono gli home movies, letteralmente film di casa, film fatti in casa, film di famiglia. Qual è la differenza tra queste immagini e gli album di fotografia, gli album di famiglia, le fotografie di famiglia? La prima cosa che viene a dire è il movimento. Il movimento è respiro, il movimento è vita, queste immagini sono ricordi, queste immagini prima di tutto ci emozionano. Che rapporto c'è tra il ricordo e l'etimologia? L'etimologia della parola ricordare, per i latini il cuore è il luogo della memoria. Ricordare, ritornare, ritornare al cuore, quindi emozione e ricordo sono strettamente correlati. E' mantenere la memoria, registrarla. che ha raccolto circa 30.000 pellicole, 30.000 pellicole di famiglie italiane. Film che abbiamo raccolto e che sono datati più antichi, ormai circa cent'anni fa. Quelle che avete visto sono immagini che ho scelto nel formato 9,5 mm, uno dei primi formati, diffuso tra il 1922 e il 1923, alcune delle immagini che avete visto sono degli anni 20. E pensate, una pellicola larga meno di un centimetro, veniva impressionata dentro cineprese molto piccole e maneggevoli. Cineprese avanzate sul piano tecnologico per l'epoca, che permettevano riprese così ravvicinate come quelle che avete visto. Ecco, noi a Bologna, nell'archivio Movies, siamo pieni di queste immagini e lavoriamo su queste immagini. Ma forse qualcuno si chiederà come è venuta questa idea. Potrei rispondere in tanti modi, anche con racconti lunghissimi. Ma dirò solo una cosa, che apparentemente non c'entra nulla. Io sono storico di formazione, mi trovavo come laureando in un archivio e a un certo punto mi trovo tra le mani una cronaca scritta della peste del 1630 a Bologna. Ecco, questa persona che aveva lasciato questa testimonianza con le sue paure, come viveva la sua vita quotidiana in quel periodo, mi ha fatto pensare che anch'io avrei dovuto trovare la mia capsula del tempo e l'ho trovata effettivamente in queste immagini. Cioè archiviare qualcosa che in futuro ci permetta di guardare al passato. Archiviare queste immagini significa curarle. Curarle in che senso? In tanti modi. Curarle perché sono oggetti delicati, pellicole che vanno maneggiate con cura, quindi sul piano proprio tecnico. È necessario sviluppare delle competenze, sperimentarle, quello che abbiamo fatto noi. Ma curare queste immagini, queste bobine, significa anche, come dire, avere a che fare con delle memorie private, avere attenzione per queste memorie, restituire un contesto attraverso la raccolta delle testimonianze orali, ad esempio, catalogarle in modo accurato ed essendo sempre consapevoli della loro provenienza. E curare queste immagini significa anche interrogarsi su come mostrarle oggi, renderle contemporanee. Voi avete visto una piccola selezione, già in questa forma sono estremamente fruibili e ci dicono molto. Un passaggio della cura è la cosiddetta rimediazione, un termine tecnico, passare da un medium all'altro, dall'analogico al digitale, dalla pellicola al video e dal privato al pubblico. Un termine tecnico, però molto importante, su cui riflettere davvero. È un termine anche che con un doppio senso potremmo dire che il digitale è il rimedio all'impossibilità di vedere queste immagini in proiettori e tecnologie obsolete che non funzionano più. Il passaggio successivo è la pubblicazione. Anche qui, cosa significa pubblicare queste immagini? Ad esempio, in rete. Gli archivi come il nostro hanno questo obiettivo di rendere queste immagini visibili, di renderle parte di un discorso pubblico. In questo caso si tratta di immagini che nascono private, quindi c'è questo passaggio dal privato al pubblico che è altrettanto importante e altrettanto delicato. Parte di questo processo è anche la proiezione. E cosa intendo per proiezione? Proiezione significa per noi curatori anche mettere in funzione i vecchi proiettori, ricreare quell'atmosfera e quell'ambiente, trasmettere quella memoria, anche in senso didattico, fare conoscere come venivano utilizzate e fruite le immagini in passato. Ma significa, ampliando lo spettro, come dire, proiettare anche noi in un futuro attraverso immagini del passato che sono la nostra eredità culturale e che ci rendono più consapevoli di noi stessi, più pronti ad affrontare anche le sfide contemporanee. Ecco, poi queste immagini sono testi aperti e sono quasi tutte mute. Queste immagini vengono raccontate, raccontate in vario modo. Prima di tutto dai protagonisti, coloro che le hanno create, in alcuni casi, o testimoni che hanno vissuto quelle storie familiari, ma anche più genericamente tutti noi possiamo raccontare a partire da queste immagini, perché tutti noi ci troviamo qualcosa del nostro passato, della nostra memoria. Ecco, queste immagini sono come le Madeleine Proustiane. Ne assaggiamo una e si apre veramente un mondo, un mondo di racconti. E queste immagini ci permettono un'immersione. Perché ce lo permettono? Perché, come avete visto, sono immagini estremamente dirette sulla realtà. Sono immagini realizzate con sguardi, senza mediazioni su quello che circonda. E quello che circonda è il mondo che si vive, è il mondo degli affetti. E c'è anche questa restituzione di sguardi. Chi filma è chi è filmato, lo sguardo in camera. Queste caratteristiche ci permettono di immedesimarci e di entrare veramente dentro quel mondo. Ma come partecipare a questo archivo? Ognuno di noi può farlo, ognuno di voi può farlo, se è in possesso di immagini del proprio passato familiare. Il primo beneficio che otterrà sarà quello di rivedere le immagini della propria famiglia, del proprio passato, poterle rivedere, poterle commentare, poterne fruire. Ma il vantaggio sarà un vantaggio collettivo, di tutti. Perché questo è un archivio di tutti e aperto a tutti. E quindi, chiudendo con il tema di questa giornata, queste immagini respirano, ci fanno respirare, ci permettono nuove modalità di narrazione della storia. Per fortuna, e anche grazie al nostro lavoro, queste immagini sono sempre più visibili e sempre più al centro della visione contemporanea. le vediamo incorporate nei film, le vediamo nelle installazioni, le vediamo sempre di più nei musei. Sono veramente un nuovo modo di raccontare la storia. Io vi ringrazio, e se volete approfondire, il sito www.onmovies.it. Grazie. Grazie. Grazie.